Diamo sempre colpa alla nostra postura, ma siamo certi che sia sempre lei la responsabile di tutti i nostri mali? Non è che le nostre rigidità dipendano da altro? Scopriamolo insieme oggi! Ciao, sono Valentina Chinaglia nei social Vale Postura. Questo è Attivati ed è il nuovo podcast per tutte le persone che vogliono rimettersi in forma o che sono già attive ma vogliono migliorare la conoscenza del proprio corpo. Ogni settimana imparerai esercizi nuovi anche con attrezzi non convenzionali. Ti svelerò falsi miti sul movimento e scoprirai che acquisire nuove e sane abitudini non è così difficile come ci hanno sempre fatto credere. Scoprirai che c'è una via di movimento facile, sostenibile e adatta a te. E come sostiene l'Organizzazione Mondiale della Sanità? Ogni movimento conta, per cui non ci rimane che partire. Attivati che iniziamo! Registro oggi con una settimana e più di ritardo ma la mia voce purtroppo non è ancora delle migliori, ma la settimana scorsa era veramente pessima. Per cui registro lo stesso anche se sono un po' rauca. Oggi voglio parlare di un tema che mi sta come sempre molto a cuore per rispondere a un po' di domande che mi arrivano spesso. Cioè, ho male alle spalle, è un problema di postura. Ho male alla schiena, è un problema di postura. Ho male all'unghia, è un problema di postura. Ho male qui, è un problema di postura. E quindi la mia domanda è, ma siamo certi che sia sempre solo un problema di postura. Non è che alla base ci sia un altro tipo di problema o che la nostra rigidità dipenda da qualcos'altro? Ora, consideriamo che il nostro corpo è una macchina meravigliosa ed è una macchina perfetta. Ed è un insieme di organi, di sistemi, di tessuti che agiscono coordinati dalla nostra centralina, che è il nostro cervello, da cui tutto riparte e a cui tutto si ricollega. La nostra struttura muscoloscheletrica, costituisce in pratica la nostra carrozzeria e permette quindi al nostro corpo di muoversi e di relazionarsi nello spazio esterno. Ricordiamoci anche che il nostro cervello ha due obiettivi primari che sono la sopravvivenza e il movimento. Il nostro apparato locomotore, cioè l'insieme di muscoli, di ossa, di tenini e legamenti, per automantenersi e sostenersi ha bisogno di movimento. I nostri organi, i nostri sistemi interni, i nostri apparati, i nostri tessuti senza movimento tendono a rallentare la loro funzionalità ed efficienza. Il movimento è quindi vita ed è espansione. Il movimento, e lo so che qui mi ripeto, è la miglior forma di manutenzione che possiamo attivare e attuare per il nostro corpo. Ti chiedo ora di pensare ad un tuo amico, amica, ad un tuo conoscente sedentario. Pensa a questa persona che non si muove e meno si muove, meno si muoverebbe e peggio sta. I suoi muscoli si retragono gradualmente, diventano sempre meno elastici, sempre meno efficienti e sempre meno reattivi. E questo perché il sistema nervoso centrale chiude le vie motorie che sono poco utilizzate. Di conseguenza questa persona diventa sempre più debole e sempre più letargica. Le sue risposte ormonali diminuiranno sempre di più e tutto si farà sempre più difficile, anche il movimento più facile. Adesso pensa invece ad una tua amica al contrario, una tua amica, un tuo amico attivi. E li penserei sicuramente diversi, più attivi, reattivi, più energici e più in forma. Perché il movimento è il più bel regalo che tu ti possa fare per te, per la tua famiglia, per chi ti sta intorno e per la tua salute. Mi sento sempre dire, ah, io ho un sacco di problemi di postura, la mia postura è pessima, la mia postura è di su, la mia postura è di giù. Ho male al collo, è un problema di postura. Ho male al braccio, è un problema di postura. Ho male alla schiena, è un problema di postura. Ho le gambe pesanti, è un problema di postura. Scegli te come finire la frase. Io non dico che non sia vero, attenzione, ma dico che alla base bisogna porsi un'altra domanda. Cioè siamo certi che sia un problema di postura e non sia un problema di assenza di movimento. Domandati se nell'arco della tua giornata e quindi nell'arco delle tue settimane, dei mesi, dedichi sufficiente tempo al movimento. Perché se la risposta è no, non mi muovo male, mi muovo pochissimo, iniziamo dal movimento e poi valutiamo se c'è realmente un problema di postura. Se invece la tua risposta è sì, ok, sei già un ottimo punto e se persistono tutti questi dolori, è chiaro che bisogna fare un altro tipo di analisi. Definiamo che cos'è un tempo sufficiente di movimento. L'Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia 150 minuti a settimana di attività intensa moderata, ossia due ore e mezza di attività alla settimana, ossia 21 minuti al giorno. Questo per la popolazione adulta, mentre per i ragazzi e per i bambini e ragazzi, l'Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia 60 minuti al giorno. Ora sappiamo molto bene che la postura e il movimento sono strettamente correlati tra di loro. Il movimento migliora la postura, ma la postura è fondamentale quando ci muoviamo e quindi non possiamo dividere questi due aspetti. Quindi se ti muovi almeno 20 minuti al giorno o 150 minuti nell'arco della tua settimana, ottimo, sei già a veramente un buon punto, ma se non ti muovi è possibile che ci siano dei problemi di postura legati a posizioni viziate legate al lavoro oppure a traumi, incidenti o altre situazioni. Di sicuro però se il tuo stile di vita è attivo stai già facendo tantissimo per il tuo corpo e per la tua salute. Se invece non ti muovi e non ti muovi per niente o ti muovi pochissimo direi che hai capito da dove è opportuno partire. Io lo so, lo so, lo so, sento già la tua voce che mi dice ma io non ho tempo, non ho voglia, non ho spazio, non riesco, la famiglia, il lavoro, gli impegni, la spesa e va bene io posso dirti ok a tutto quanto, posso consentire a dirti è la verità, ma la verità io te la dico e cioè che se non ti muovi non sarà solo un problema di postura, con molta molta probabilità diventerà un problema di rigidità, un problema di movimento e un problema per dire la zona cervicale. Ora facciamo un esempio ancora più concreto, supponiamo che tu vada dal dentista a fare la pulizia ordinaria una o due volte l'anno ok tutti gli altri giorni dedichi tempo alla tua igiene dentale oppure ti preoccupi solo quando vai dal dentista? Non credo, non credo che sia solo quelle due volte, io credo che ci sia una cura quotidiana in questo. Allora perché no rispetto al nostro apparato muscolo scheletrico? Perché non ci curiamo, non ci preoccupiamo di preservare tutta la nostra macchina, non solo quando ci fa male ma anche prima. Io ottengo molto questa relazione movimento postura, non perché io faccia delle magie ovviamente ma perché il primo punto da cui partire è davvero il movimento, ma non un movimento casuale, un movimento banale, ma il movimento quotidiano, un movimento consapevole. Ricordati che non stai spostando aria, ma stai attivando i tuoi muscoli, le tue catene articolari, le tue catene muscolari, è importante avere un movimento corretto e un movimento che sia in salute, ma come? Ok vediamo adesso delle piccole strategie di movimento valide per tutti, per tutte, ma anche per te che hai poco tempo, ma hai anche male al collo, per te che non vuoi andare in palestra per n motivi o per te che non vuoi allenarti online. Vediamo questi cinque spunti di movimento. Spunto numero uno, vai a lavorare a piedi o in bicicletta se puoi, oppure parcheggia l'auto un pochino più distante, non credo di raccontarti niente di nuovo. Spunto numero due, nella pausa prendi il caffè, non nel bar sotto all'ufficio o a casa, ma quello un pochino più distante, se non è troppo distante ovviamente e se hai il tempo sufficiente. Spunto numero tre, punta un timer ogni ora o quando puoi per alzarti, questo ti aiuterà ad attivare la circolazione e cambiare posizione del corpo. Spunto numero quattro, se hai le scale in casa, in ufficio o in condominio, sfruttale, falle una o più volte. Fare le scale ha un costo pari a zero e beneficio pari a dieci. Spunto numero cinque, quando sei al telefono, cammina, cammina, cammina. Se non hai una telefonata di lavoro in cui devi prendere appunti, prova così. Io l'ho imparato da una mia amica super organizzata che combina alcune telefonate, ovviamente non tutte, con la camminata. Tanto siamo abituati a vedere gente in giro che cammina e parla da sola per strada perché magari gli auricolari, o forse no, e non li vediamo. Quindi questo è un limite solo per noi. Ci sono infiniti consigli, ma ora tocca a te iniziale e scegliere uno di questi cinque spunti di movimento. Te li ripeto e te li riassumo. Uno, prediligi gli spostamenti a piedi, tu delle volte che puoi. Due, prendi il caffè nel bar più distante, non proprio quello sotto l'ufficio. Tre, punta una sveglia e fai una pausa di cinque minuti per risvegliare il corpo. Quattro, fai le scale, su e giù, su e giù, su e giù. Cinque, telefona e cammina, doppio allenamento insieme. Detto tutto questo, ora mi alzo anche io e faccio una pausa di un po' di stretching e un po' di cammino perché è un po' che sono seduta. Bene, se invece vuoi fare delle pratiche di quindici minuti perché non ti piace uscire a camminare o perché preferisci stare in casa, anche se uno non esclude l'altro, ricordiamocelo, puoi provare e iscriverti alla mia Attivati Academy dove troverai tantissime pratiche brevi, semplici ed efficaci, ma non per questo banali, con cui potrai rimetterti in forma, sciogliere i muscoli e migliorare la tua postura. Ci sentiamo nella prossima puntata. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Attivati. Se la puntata ti è piaciuta ricordati di condividere nelle storie di Instagram e di taggarmi così posso vedere e salutarti. Mi trovi su tutti i social Instagram, Facebook, YouTube e Pinterest con Vale Postura. Se vuoi sapere cosa faccio e se possiamo lavorare insieme vai su valepostura.it per scoprire i miei corsi e i miei programmi online. Alla prossima puntata!